Cosa fare quando si ha un disturbo psicologico persistente? Disturbi psicologici possono essere tanti, di vario tipo, può essere uno stato d'ansia, di depressione, un'idea ossessiva, un rituale, una fobia, la preoccupazione immotivata per la salute proprio di qualche proprio caro. Insomma, grossomodo tutti noi abbiamo un'idea di quali siano questi disturbi. Ovviamente nella vita di un individuo si possono manifestare in maniera episodica, quando invece tendono a diventare di lunga durata o di una gravità tale da impedire di vivere, ecco che allora bisogna occuparsene. Primo errore che bisogna quindi evitare è quello di non occuparsene, o meglio di decidere di fare di testa propria, di controllare tutto con la propria forza di volontà, ce la devo fare da solo. Quando si inizia a cercare su internet, su youtube, le tecniche per, normalmente si fanno disastri, si perde un sacco di tempo e si aggrava progressivamente, quando invece un intervento precoce potrebbe probabilmente risolvere il problema in poco tempo. Allora, la prima cosa da fare invece è rivolgersi a un medico. Perché dico un medico? Perché può capitare che questi sintomi siano apparentemente psicologici, o meglio, siano psicologici, ma abbiano una causa, la causa in un qualche disturbo fisico, organico, una qualche malattia fisica, che sta decorrendo sotto la superficie, senza che sia apparente. Ecco perché è importante che la prima persona che vi veda sia un medico, cioè una persona che dovrebbe essere in grado di distinguere tra un disturbo fisico e un disturbo psicologico. Qui è necessario che abbia tre caratteristiche questo medico, che sia bravo, che sia coscienzioso, che sia onesto. Allora voi mi direte, dove lo trovo un medico così? Eh, lo so. Questa è la prima di una serie di sfide che, ahimè, chi ha un disturbo psicologico deve affrontare e cercare di vincere. Il medico deve essere bravo, nel senso che non può essere soltanto un medico specialista del suo settore, un cardiologo, un neumologo, eccetera, eccetera. No, ma deve essere quello che una volta si chiamava un bravo internista, cioè una persona che ha una visione a 360 gradi del paziente, e quindi è in grado di individuare malattie di vario tipo, e anche di riconoscere un disagio psicologico. E deve essere coscienzioso, cioè una volta che ha riconosciuto il disagio psicologico, non vi deve dire, ah non è niente, non ti preoccupare, pacca sulle spalle e via, cerca di fare meno, di avere meno stress nella vita. Perché questo di nuovo è un atteggiamento irresponsabile. Essere coscienziosi vuol dire che una volta che si è riconosciuto il disagio psicologico, si consiglia al paziente di dirigersi, di rivolgersi a uno specialista. Deve essere onesto, perché qui i medici hanno tutti una grande tentazione, che è quella di cominciare a inventarsi malattie inesistenti, e possono essere intolleranze alimentari, allergie, avitaminosi, disturbi dei sali minerali, insomma c'è di tutto. Normalmente in questi casi poi vengono dati tutta una serie di supplementi, di vitamine, di sostanze varie, che non servono a niente, fanno spendere un sacco di soldi, e soprattutto fanno perdere un sacco di tempo prima di fare la diagnosi e iniziare il trattamento vero. Ci sono poi forme di disolestà ancora più gravi, che sono quelle per cui si inizia a far fare all'analato una specie di giro delle sette chiese, facendo esami sempre più complicati, esami di laboratorio, TAC, risonanze magnetiche, eccetera, eccetera, alla ricerca di qualche misteriosa malattia, che ovviamente non si scoprirà mai, ma l'unico risultato sarà quello di convincere il paziente che ha una malattia misteriosa di cui nessuno riesce a venire a capo, e così lui tutta la vita andrà alla ricerca di questa malattia senza curare la malattia di cui davvero, veramente soffre. Allora, andare da uno specialista. Quale specialista? Beh, può essere laureato in medicina, è laureato in psicologia, la differenza fondamentale è che il laureato in medicina può anche prescrivere dei farmaci, cosa che non può fare il laureato in psicologia, ma a parte questa differenza non ci stanno grandi differenze. Il laureato in medicina poi può avere varie specializzazioni, può essere uno psichiatra, uno psicoterapeuta, varie cose, ma anche qui cambia realmente abbastanza poco. Secondo me ci sono due criteri che cambiano abbastanza e cui bisogna andare a ricercare. Il primo elemento è che lo specialista, ripeto, qualunque sia la sua formazione, se medico o psicologica, abbia una formazione anche psicoanalitica. Perché dico questo? Perché chiunque ha una formazione psicoanalitica cerca anche le cause di un disturbo mentale, non cerca soltanto di bloccare i sintomi, ma va alla ricerca delle cause e cerca di rimuoverle. Io lo so che molti colleghi su questo non saranno d'accordo perché ritengono che la ricerca delle cause fatta dalla psicoanalisi non ha basi scientifiche sufficientemente solide o quello che è. Guardate, sia quel che sia, fatto sta che chi ha una formazione psicoanalitica almeno si pone il problema delle cause, gli altri proprio il problema delle cause non se lo pongono per nulla. Quindi vi consiglio, scegliete una persona che ha una formazione psicoanalitica alle spalle, anche perché chi ha una formazione psicoanalitica dovrebbe aver avuto anche una propria analisi personale, una propria psicoanalisi personale, il che significa, certo, non una garanzia che sia sano di mente, ma almeno, diciamo, la garanzia che un po' più di attenzione all'introspezione e alla percezione dei disagi psicologici ce l'abbia. L'altra caratteristica che dovete ricercare ed è probabilmente la più importante è quella che non sia un monospecialista, cioè non sia una persona che si occupa soltanto di psicoanalisi, di psichiatria, di psicologia, della sua disciplina professionale, ma sia una persona con tanti interessi, con altri interessi, oltre la propria professione, su internet, che si trova di tutto. Potete capire se la persona a cui vi rivolgete è una persona a cui piace il teatro, la musica, la poesia, a cui piace fare passeggiate in montagna, andare in barca a vela, che canta nel coro della chiesa, o che altro. Ecco, non importa davvero quale di queste cose questa persona faccia, purché ne faccia qualche d'una, purché non sia una persona ossessivamente presa soltanto dalla propria professione. Detto in parole molto semplici, L'ideale è quello che viene stabilito all'inizio di uno dei libri più antichi della nostra cultura, che è l'Odissea, quando si descrive Ulisse. E si dice Ulisse, persona dal grande ingegno, esperto, esperto perché ha visto molte città e ha conosciuto le menti di molte persone. Cioè, una persona curiosa del mondo e degli esseri umani, che ha girato il mondo e che ha conosciuto tante persone. Ecco, la curiosità del mondo è la caratteristica fondamentale che voi dovete cercare in colui o in colei che si occuperà della vostra salute mentale. Io vi auguro buona fortuna e vi raccomando seguite i miei consigli. Grazie.